questo programma è offerto da mercoledì 3 dicembre ben ritrovati anche quest'oggi la nostra rassegna stampa con uno sguardo ai principali quotidiani locali e nazionali ci occuperemo in modo particolare di quello che riguarda tutto il ciclo dei rifiuti sul territorio cilentano una vicenda che sicuramente conoscete benissimo perché l'abbiamo seguita passo passo anche attraverso il nostro telegiornale in modo particolare per quanto riguarda la travagliata storia degli operai del consorzio smaltimento rifiuti salerno 4 ebbene questi consorsi dovrebbero chiudere a breve la scadenza del 30 dicembre probabilmente ci sarà una proroga e noi vogliamo ecco continuare a parlarne insieme ad una ex operatrice del Corisa 4 ma ti possiamo definire tale Maria allora è qui con noi Maria Maiuri ex operatrice del consorzio smaltimento rifiuti salerno 4 abbiamo visto protagonista di tante battaglie di tanti momenti di protesta che avete portato avanti momenti di protesta Maria che sono serviti a qualcosa o no qual è la situazione buongiorno a tutti innanzitutto e grazie per l'invito a Carmela che mi consente ancora una volta di richiamare l'attenzione di tutti su un problema drammatico ormai le nostre proteste purtroppo non hanno prodotto risultati se non qualche acconto in più in momenti drammatici per esempio quello di quando i colleghi stanno sul tetto del cantiere io vorrei sintetizzare rapidamente in modo che è più chiaro per tutti la storia di tutti gli addetti del settore rifiuti nel cilento il consorzio raccontiamo un po' anche la tua storia Maria si attraverso la mia storia non per essere io assolutamente protagonista perché avendo iniziato con il consorzio tra i primi il gruppo del 97 purtroppo oltre al piacere di aver condiviso questa esperienza di lavoro 20 anni fa sì sì in pratica sinteticamente è successo questo il consorzio nacque con un gruppo di amministrativi già nato prima sulla carta ma con noi amministrativi eravamo 6 nel 97 l'attività iniziò nel 98 amministrativi facevano che tu che cosa ti occupavi io mi occupavo io sono stata sempre una dipendente amministrativa del Corisa 4 sin dall'inizio l'inizio fu di LSU poi ci fu una stabilizzazione negli anni 2000 alcuni furono stabilizzati prima altri dopo e come dipendenti del consorzio eravamo alcuni direttamente del consorzio poi c'erano gli assunti con le ordinanze commissariali e per non annoiare anche il pubblico ad essere chiara e sintetica arriviamo allo scorso giugno giugno 2014 quando eravamo ancora 65 unità e io ero la responsabile del personale non lo voglio dire per ricordare chi sono ma semplicemente perché ho a cuore ho a cuore la sorte di tutti e 65 io oggi sono un ex Corisa ricollocata alla Iele come diceva giustamente Carmela. Quindi tu hai lasciato il consorzio sei passata alla Iele? Sono passata alla Iele perché fu avviata una mobilità come tutti sappiamo e sapete che portò a ricollocare alcuni di noi alla Iele altri dovranno essere ricollocati in ecoambiente poi purtroppo alcuni colleghi sono stati licenziati questo per me è un dolore io lo devo dire per me è un dolore e pensando ai colleghi licenziati pensando che comunque nessuno di noi 65 né degli altri che abbiamo trovato alla Iele perché noi 25 ricollocati alla Iele adesso siamo parte di un gruppo di circa 260 persone che rischiano di non avere un futuro ora io non sono qui per parlare di consorzio di Iele di quello che è successo lo so la storia è una storia come dicevi tu prima di circa 20 anni che per me come per i colleghi come per tutti ha significato momenti di lavoro momenti in cui abbiamo vissuto decorosamente ma negli ultimi anni è diventata soprattutto negli ultimi mesi una tragedia per tutti la cosa importante per cui sono qui questa mattina e testimoniare e testimoniare che noi desideriamo lavorare noi che siamo in questo settore desideriamo poter lavorare perché dicevo ieri io ogni tanto faccio delle riflessioni su facebook dicevo una cosa semplicissima banale cioè se io lavorassi alla fiat e venisse chiusa una catena di produzione sarebbe logico normale tra virgolette dover accettare purtroppo è andata male sono finite in cassa integrazione ma signori signori sindaci mi rivolgo a voi il settore rifiuti non è un settore in crisi io ho parlato quando l'avvocato del gaudi il commissario del consorzio mi faceva contattare in qualità di responsabile del personale gli uffici provinciali gli uffici di competenza per chiedere di un'eventuale mobilità come si dovesse fare mi sentivo dire voi siete un ente pubblico e non siete in un settore in crisi non si può non si può avere una mobilità in senso stretto allora signori sindaci questo territorio noi eravamo un consorzio di 49 comuni oggi in liquidazione non si sa il 3 dicembre non sappiamo se il consorzio sarà prorogato la iele ha un oggetto sociale in scadenza ma vogliamo renderci conto noi cittadini di questa terra che abbiamo due risorse il turismo e i rifiuti i quali sono interconnessi perché turismo significa ambiente qualità dei servizi ambientali significa vita sostenibile e perché la vita sia sostenibile è necessario che ci sia una qualità e la qualità non può prescindere dall'ambiente la salute che è collegata all'ambiente l'economia di un territorio ma se noi affamiamo 300 famiglie e altri che orbitano perché poi ci sono altri servizi il settore rifiuti è un settore nel quale lavorano tante tante persone io non voglio accusare nessuno. Come vivi oggi tu Maria? Allora io ho molte difficoltà perché chiaramente con come molti colleghi con arretrati che non riusciamo a percepire abbiamo in atto decreto. Quanti stipendi avanzate dal consorzio? C'è una differenza perché alcuni più fortunati sono riusciti a portare a buon fine i decreti ingiuntivi ma mediamente chi sta benino ha un arretrato di una decina di stipendi con il consorzio ci sono i licenziati e quell'indisponibilità che stanno anche peggio ovviamente e chi è passato alla Iele è riuscito come me a percepire gli stipendi dall'assunzione di giugno io sono ferma ad agosto 2014 quindi la Iele ha delle difficoltà perché siamo sempre si torna sempre all'origine del problema i comuni direi un'ultima cosa se faccio il tempo allora io sono sono stato partecipato anche alla provvidenza quando ci fu quella serata organizzata da set tv i sindaci non sapevamo noi non c'era l'altro sindaco allora io sostengo e mi assumo la responsabilità di ciò che dico che il consorzio non voglio fare lezioni a nessuno è semplicissimo e che non lo vogliono non lo vogliono capire diceva alessandro manzoni è molto peggio quando non si vuole capire perché si può spiegare e se qualcuno ha voglia di capire capisce io spero che stamattina capiate che il consorzio che cos'è che cos'era un consorzio di 49 comuni con 49 sindaci che costituivano l'assemblea io ero nella direzione corisa e il direttore che il primo direttore quello che arrivò dopo faceva trasmettere a me quindi io so quello che avveniva per certo le delibere del cda che era l'organo esecutivo ovviamente del consorzio l'assemblea alcuni sindaci venivano altri mandavano i delegati ma non potete dire anche voi che non c'eravate allora i giovani sindaci non sappiamo perché c'è la continuità dell'ente comune la iele non vi va bene è cresciuta troppo perché questo mi ha detto anche qualche amministratore locale che mi ha incontrato per strada bene avete gli strumenti avete il potere di chiedere a chi di competenza di riorganizzare il settore c'è una legge regionale chiusa in un cassetto che ha previsto il riordino del ciclo integrato dei rifiuti ci sono concludendo le no perché penso di aver detto tutto quello che ho capacità di dire ancora abbiamo la rassegna stampa e quindi e quindi concludendo avete una legge regionale che attende di essere attuata avete tutti gli strumenti la collaborazione di tutti noi umili addetti del settore dei vertici con i quali potete incontrarvi e tra poco sarà natale non voglio fare una cosa strappalacrime qualche illuminazione in meno nella provincia di salerno e qualche opera concreta per il nostro territorio per questa nostra terra che quando vengono i miei amici dal nord da altre regioni mi dichiarano e ci dichiarano fortunati per le bellezze che abbiamo non la distruggiamo perché rifiuti è fame per noi ma è anche che poi se non c'è controllo da parte di soggetti pubblici significa discariche abusive significa tanto altro e ci sarebbe molto da dire grazie allora resta qui con noi dobbiamo ancora sfogliare il giornale così ecco ti chiedo anche qualche intervento allora iniziamo subito perché si parla anche tanto di rifiuti sui quotidiani di oggi allora iniziamo subito dalla prima pagina del mattino nazionale purtroppo questa tragedia loris il bimbo siciliano l'ultimo mistero la mamma in questura nelle immagini dell'auto verso la scuola non si vede il bambino quindi trovati gli slip ma è un depistaggio indagato il pensionato cacciatore ascoltato anche un diciottenne vicino di casa davvero una tragedia andiamo avanti politici ed ex terroristi la mafia degli appalti blitz a roma 37 arresti indagato anche alemanno l'ex sindaco di roma il ruolo dell'ex nar carminati vicino alla banda della maiana si dimette un assessore del partito democratico e poi muti il quirinale no grazie nessun contatto con renzi lasciate in pace mio figlio me e il premier il maestro dice voglio fare il musicista sino alla fine della mia vita poi il caso a napoli due agenti feriti 13 denunciati vergogna al concorso dei vigili urbani botti accuse di brogli e arriva la polizia intanto lavori per le scuole sparito il tesoretto dai 3,5 miliardi a solo 270 milioni fondi dell'unione europea si sente odore di bruciato così scrive se iasale se ricapitolismo ci sono da spendere o da rendicontare quasi 15 milioni di euro da qui a dicembre 2015 killer di siani ho scritto solo un romanzo parla l'ex boss cavalcanti nel libro ho raccontato voci di altri e poi la concordia con schettino ascoltato ieri durante l'udienza del processo ho fatto l'inchino la gente pagava la procura chiede 22 anni e lasciamo così le pagine del mattino nazionale uno sguardo anche alle pagine del mattino di salerno tanta cronaca ancora ecco articoli in riferimento a quanto accaduto a possiglione e vibonati ma andiamo avanti vigili scatenati raffica di multe a salerno lucida artista blitz stangata sugli evasori tosap 60 verbali 80 locali nella blacklist scattata l'operazione sicurezza da ieri polizia municipale e ispettori ambientali presidiano il centro la tragedia da d'ascea muore a 12 mesi nella culla con il gemellino questo quanto accaduto ieri purtroppo a d'ascea capoluogo poi operaio morto nel cantiere giallo la tragedia nella lottizzazione cr32 di via iende accanto allo stadio a brizza al mercato ortofruttico le pagani sotto assedio e caccia ai banditi della rapina shock poi nubifraggio crolli e frane in costiera amalfitana ancora la cronaca con san giovanni appiro il medico e la paziente sul lettino un medico ieri mattina è finito agli arresti domiciliari per una accusa pesante abusi sessuali su alcuni pazienti pazienti e poi la verità capovolte le verità capovolte della morte su facebook riferimento a quanto accaduto a postiglione il focus la casa torna un affare record di transizioni e prima di andare avanti nelle pagine interna torniamo con Maria Maiuri allora ex operatrice del coris a 4 abbiamo ascoltato le tue parole sicuramente questo è uno sfogo che arriva c'è tanta rabbia per quanto accaduto per quello che doveva essere per quello che è per quello che non sarà nell'ambito della tua storia lavorativa quando hai iniziato a lavorare per il consorzio che cosa immaginavi Maria io speravo che potesse esserci nella mia terra un'opportunità di lavoro di poter esprimere la mia professionalità senza dover lasciare come tanti altri lasciare il sud per il nord e poi ho svolto sempre un compito che oltre ad essere svolto in modo utile per il datore di lavoro mi faceva sentire vicina e utile ai colleghi tra i quali c'erano anche persone semplici che mi hanno gratificato in momenti in cui c'era da compilare una richiesta ci sono anche persone poco scolarizzate che però hanno una cultura hanno tanto da e si sperava di poter lavorare di poter lavorare vivere dignitosamente nel cilento e dare il proprio contributo tutti insieme ecco tu hai detto che alcuni due colleghi sono stati licenziati altri in questo momento sono una situazione alquanto particolare perché non sono licenziati sono a casa ma dovrebbero percepire lo stipendio effettivamente lavoro come funziona ecco qual è la realtà sì sono stati sono a casa però non lavorano ma percepiscono dovrebbero percepire lo stipendio dovrebbero percepire parte una percentuale per la disponibilità per la collocazione in disponibilità e sono coloro che ovviamente di questo aspetto parlo con molta delicatezza perché ci sono altri che possono dire di più e assumersi la responsabilità di quello che dicono di questa vicenda che non mi ha coinvolta direttamente perché erano gli addetti all'impianto di selezione di Valloscalo che al momento è chiuso che è chiuso e coloro che erano assegnati a quel cantiere sono in disponibilità ecco non percepiscono lo stipendio come vivono come si fa ad andare avanti con una famiglia alle spalle è triste triste ma veramente è durissima è durissima io li sento sono in contatto con molti di loro e stanno male stanno male inevitabilmente e quindi vorrei concludendo questo questo mio intervento per cui ringrazio ancora te la televisione un po tutti quelli che hanno attenzione per noi la speranza che voglio continuare a nutrire nonostante la rabbia che credo sia legittima perché chi ha sempre insieme ad altri pensato di vivere in uno stato in cui c'è un ordinamento giuridico ricordiamolo in cui ci dovrebbero essere sicuramente avendo onorato sempre i propri doveri non avendo mendicato e non avendo chiesto raccomandazioni a nessuno ci si è sempre augurati di poter esercitare i correlativi diritti e quindi la speranza è che finalmente si assumano le responsabilità coloro che invece di dividersi le poltrone il potere ecco tu parli di responsabilità ma ci sono dei responsabili per quanto accaduto? sì sì perché non si può non applicare una legge io non voglio come dicevo prima accusare soggetti specifici avrei anche in mente dei soggetti ovviamente però non è il mio lavoro è quello della magistratura che aspettiamo intervenga naturalmente perché sono state fatte delle segnalazioni eccetera e l'auspicio di tutti noi 65 del consorzio ricordo perché ricollocati in disponibilità 65 più iele perché siamo tutti gli addetti e per tutti gli addetti io auspico che qualcuno si preoccupi si preoccupi e agisca per un obiettivo importante che è quello di garantire come prevede la legge qua nessuno lo sta chiedendo per cortesia lo prevede la legge era contemplato nella legge 26 2010 che si tutelassero i livelli occupazionali che si tutelassero in italia c'è il principio del diritto acquisito e quindi noi chiediamo semplicemente che si applicano si applichino le norme che sono state emanate dal parlamento la 26 2010 e dalla legge e nella legge regionale norme della legge regionale che disciplinano perfettamente la nostra situazione quindi credo sia semplice c'è un articolo che ci riguarda maria arriva allarme rifiuti arrivano i commissari verso la liquidazione dei consorsi romano è irremovibile conferenza d'ambito salerno è inadempienti allora andiamo a leggere vediamo che cosa vi infatti le inadempienze il comune di salerno potrebbe essere il primo ad essere commissariato dalla regione campania per la mancata adozione di tutti gli adempimenti previsti dalla legge regionale sul riordino del ciclo integrato dei rifiuti siamo completando le verifiche annunciato l'assessore regionale dell'ambiente giovanni romano nei prossimi giorni avremo un quadro completo degli enti che non hanno adempiuto agli obblighi di legge ma è certo ha sottolineato romano che il comune capologo verrà commissariato perché non ha convocato nei tempi stabiliti la conferenza d'ambito da napoli dunque si continua a perseguire la strada che dovrebbe portare alla piena applicazione della legge regionale a partire dal primo gennaio salvo nuove proroghe cesseranno l'attività anche i consorsi di bacino tra cui il codice a 4 a cui appartieni tu allora non ci sarà probabilmente altro spazio per chiarimenti e correzioni al testo licenziato dal consiglio regionale dunque la maggior parte degli enti locali verrà espropriata di ogni funzione e attività di controllo sul futuro assetto della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che verrà esercitato da funzionari regionali con funzione di commissari ad acta che saranno nominati direttamente dai presidenti della giunta regionale quindi da caldoro quindi secondo te si aprirà una nuova fase allora lo spero un'altra fase commissariale spero che si applichi di quello che che stiamo io acquisendo insieme a te che tu stai leggendo praticamente sembra una ripetizione un po più tranquilla e serena rispetto a quello che dicevo io del concetto che abbiamo tutti noi del settore rifiuti cioè aspettiamo che si applichi la legge regionale e tutto questo secondo te la iele che fine farà io mi auguro che chi ha diritto chi ha diritto perché coerentemente con quello che dicevo un attimo fa chi ha diritto quindi anche i dipendenti della iele che hanno diritto quelli che lo erano già prima che subentrassimo noi come ricollocati noi 25 mi auguro che tutti gli aventi diritto possano continuare a lavorare ecco prima tu ti rivolgevi ai sindaci ma di fatto che cosa possono fare i sindaci che cosa devono fare cosa allora i sindaci intanto possono dato che la legge regionale gli restituisce il potere di essere i soggetti che controllano il ciclo dei rifiuti nel proprio territorio organizzandosi in sto intanto possono lavorare per uniti per formare questi sto nell'ambito del cosiddetto ato dell'ambito territoriale ottimale e soprattutto dovrebbero smetterla di temporeggiare sugli adempimenti cioè chi deve versare dei delle degli importi alla iele al consorzio i loro debiti dovrebbero onorare quelli che sono i crediti per la iele e per il consorzio e poi smetterla di dire non sapevano non è il momento di scaricare responsabilità di nascondersi e di accusare altri di dire siete un carrozzone il consorzio è stato un carrozzone la iele un carrozzone loro come dicevo prima ribadisco avevano il diritto dovere di esercitare la funzione di controllo attraverso l'assemblea del consorzio che erano i sindaci e potevano anche eh arginare certe manovre che invece qualche sindaco ha favorito presentando amici e parenti quindi la politica ha le sue responsabilità ma certo certo parlavi prima tu di poltrone ecco sì sì perché si si pensa a eh temporeggiare a promettere e anche cercare di avvicinare le persone eh piuttosto che lavorare nell'interesse generale perché torna utile a mio parere io ho una formazione economico aziendale da qui deriva questa mia convinzione se si lavora bene e si pensa a fare bene le cose ci sarà posto sia per chi ha diritto e sia per gli amici lavoriamo tutti quindi se siete tanto bravi ci sarà posto anche per gli amici oltre che per gli aventi diritto al momento invece c'è posto solo per gli amici temo di sì temo di sì perché si soffre più si è legati come me e so di cosa parlo perché lo vivo sulla mia pelle più si è legati ai propri principi a volere semplicemente esercitare i propri diritti e più si ha vita dura intanto maria ci sono delle buone novità per altri lavoratori che protestano che fanno sentire la propria voce sono i lavoratori forestali ieri la regione ha sbloccato 20 milioni per i forestali grazie alla sottoscrizione dell'accordo quadro di programma che permetterà di liberare le risorse al piano forestazione per l'anno 2014 ci saranno finalmente assicurati i soldi per pagare almeno qualche mensilità anche qua tanti stipendi arretrati piccoli acconti come dicevi tu ogni tanto però il problema resta soprattutto sul futuro di questi operai poi la tragedia dio francesca l'abbraccio del vescovo lacrime al campus ieri per la messa in memoria della studentessa uccisa dal bus altre proteste quelle che riguardano il mondo della riabilitazione i malati in testa al corteo devono far riflettere queste immagini gli ammalati che sono costretti a scendere in piazza per difendere i propri diritti centri privati in piazza per ottenere la proroga delle prestazioni sui fondi la regione ricalcola i finanziamenti poi vergogna e indignazione il loro dramma in mostra il raduno davanti all'als ha paralizzato il traffico in città 20 bus per gli handicappati intanto l'ordine dei medici si presta si prepara al rinnovo dei vertici elezioni dunque ravera dopo ravera la categoria dei camici bianchi ha indicato il nuovo consiglio direttiva le urne 1464 medici su 6822 20 diritto la prossima settimana dunque la attesa del risultato poi i due omicidi in provincia di salerno meri troppi silenzi l'urlo della figlioletta dove mamma la piccola non sa ancora nulla le amiche di infanzia della donna preparano una fiaccolata intanto per angela lo straccio del suo metto solo ora saputo l'altro omicidio avvibonati questa mattina è attesa l'esame autottico appunto l'autopsia rivelerà se la 39enne poteva salvarsi se soccorsa in tempo sarà eseguito presso l'ospedale di Vallo dal medico tra eseguito appunto dal medico legale Adamo maiese la scheda l'allarme del ministero della giustizia femminicidi in aumento su 2013 una donna uccisa ogni due giorni 7 su 10 in famiglia e poi a San Giovanni Appiro violenza sessuale alla paziente medico arrestato il professionista detenuto nella sua casa di salerno interrogatori in vista anche per altre tre donne operaio morto nel cantiere giallo a salerno la scoperta nel primo pomeriggio i colleghi lo trovano a terra privo di vita nessuno sa spiegare cosa sia accaduto non si esclude un malore e andiamo avanti la pagina del mattino che ci riporta nel Cilento Vallo di Diano l'altra tragedia muore a 12 anni a 12 mesi nella culla col fratello gemellino la tragedia mentre dorme appunto col fratellino inutile la corsa delle ambulanze esame esterno sulla salma è stata una disgrazia il padre tenta di salvarlo seguendo le istruzioni dei medici al telefono poi a sapri l'ex spazzino non è stato ammazzato è stata una caduta accidentale a causare la morte di giuseppe giudice l'inchiesta sul decesso dell'ex dipendente comunale capaccio senza lavoro minaccia di lanciarsi nel vuoto figlio di sabile sfratto il blitz della disperazione negli uffici municipali l'appello chiede di parlare con il sindaco voza lui può aiutarmi questo è il dramma della disperazione maria intanto ad agropoli autovelox il comune passa al contrattacco il personale della polizia municipale incontra i funzionari della prefettura a corredo monforte rugo doloso al fienile in fumo 5 mila balli a caggiano polpetti avvelenate per i cani di da caccia e andiamo avanti continuiamo sul con la città anche qui in primo piano la cronaca donne uccise pentimenti e silenzi l'assassino di postiglione tenuto in isolamento oggi va dal giudice si indaga sui posti della coppia l'omicida di vibonati chiede scusa dice amavo mia moglie è stato un raptus il braccio di ferro abbiamo visto disabile in piazza la regione recupera i soldi per l'assistenza ad ascea trova il figlio di un anno morto nel letto gifoni valle piana messa in ateneo per francesca il papà è con noi battipaglia aveva in casa 6 mila dosi di marijuana poi a capaccio 10 ore in ospedale ma non c'è posto e andiamo a dare uno sguardo ecco qua tanta cronaca con i due omicidi orrore femminicidi cosimo in isolamento la sua verità al giudice l'interrogatorio in carcere per difendersi dall'accusa di omicidio volontario ai post della coppia su facebook ora entrano nel fascicolo della procura intanto quei 300 like fasulle il caso salernitano e la manipolazione del consenso sui social dunque sarebbero fasulli i like intanto l'altro omicidio pili chiede scusa dice amavo mia moglie è stato un raptus il drammatico racconto del 48enne eh operaio di vibonati voleva trasferirsi in germania per lavoro lei si opponeva l'intervista a lezione di social network per vivere nella rete l'articolo di carlo pecoraro e parla il professore giovanni boccia artieri ordinario presso il dipartimento di scienze della comunicazione dell'università di urbino anche tu prima dicevi ho postato su facebook quindi si utilizza facebook per far sentire la propria voce maria sì eh io a volte faccio delle riflessioni che praticamente uno sfogo sì per condividere innanzitutto per esprimere la solidarietà agli altri colleghi molti di dei colleghi in disponibilità venivano da napoli e eh tra l'altro è un mezzo economico rapido immediato per sentirci vicini per condividere delle idee e anche perché speriamo che eh poiché anche molti sindaci vedono quelle che sono le nostre riflessioni gli sfoghi eh a volte scriviamo per esortarli a a non dimenticarci a fare la cosa giusta perché ehm ripeto per l'ultima volta eh la cosa che ognuno di noi chiede non è altro che fare la cosa giusta nell'interesse di tutti può derivare un vantaggio giusto per noi per tutti i cittadini del Cilento per eh anche per per voi perché avere un territorio in cui la gente non è disperata in cui la gente vive in un in un ambiente sano pulito eh il turismo gli operatori del settore turistico è eh un qualcosa che ha delle ricadute quindi un piccolo impegno poi anche il fatto che ehm un'altra cosa molto molto brutta che viene fatta puntare il dito contro gli addetti alla raccolta contro i colleghi che sono impegnati nella raccolta non hanno voglia di lavorare perdono tempo sicuramente qualcuno è imperfetto ma teniamo conto che sono senza stipendi sono ragazzi disperati con mezzi che eh gli addetti all'officina fanno del loro meglio per farli circolare perché le risorse sono poche perché non vengono pagati i debiti da parte dei comuni allora c'è una parola una parola semplicissima organizzazione organizzare meglio rendere più efficiente per rendere più efficiente è necessario avere delle risorse e saperle gestire tutto qui Maria eh appena i consorsi si avviano allo scioglimento però c'è stato un commissario negli ultimi anni Domenico Del Gaudio poi qualche giorno prima del rinnovo delle elezioni eh provinciali eh provinciali non è deciso di revocarlo ha nominato un nuovo commissario il sindaco di Campora che non so se effettivamente ha iniziato a lavorare l'ho incontrato una volta ma poi io adesso lavoro a Vallo Scalo non so eh di questi ultimi fatti non ho conoscenza diretta ecco ehm come ha svolto secondo te il lavoro il commissario Domenico Del Gaudio ecco ha delle responsabilità a lui secondo te ecco non ti voglio mettere in difficoltà però questa è una domanda difficilissima eh è stato con lui che vi siete più volte confrontati sì allora io eh sono abituata a dire la verità e eh a dire con molta obiettività anche eh le cose che conosco direttamente sicuramente la storia del consorzio e eh tanti errori eh non sono come qualcuno dice eh riconducibili a Del Gaudio ci sono state delle cose in passato che potevano essere fatte meglio e che poi hanno prodotto dei risultati che nel momento in cui è arrivato l'avvocato Del Gaudio era troppo tardi per evitare come danni io ho un rapporto personale di rispetto e di stima per il modo educato corretto che ha avuto nei miei confronti e mi ha dato la possibilità rientrata dal cantiere di Ogliastro dove ero stata confinata da quelli che gestivano prima il consorzio sono rientrata a Vallo e sono stata gratificata con un incarico che poi è stato quello che mi ha consentito di esprimere al meglio la mia professionalità io non posso dire se lui abbia commesso degli errori non per essere per glissare la tua domanda o per essere di parte io non sono di parte se non dalla parte della verità delle cose in cui credo potrebbe aver fatto anche lui degli errori una cosa non ho capito del suo operato degli ultimi mesi gliel'ho detto perché sono abituata a dire anche alle persone direttamente interessate ciò che penso se fosse stato possibile evitare di arrivare al licenziamento io sarei stata sicuramente più felice per i miei colleghi e lo avrei apprezzato anche di più non ho capito questa situazione ho delle difficoltà a capire questi licenziamenti non so esattamente perché poi bisogna per poter esprimere un giudizio non ho difficoltà come è venuto fuori anche oggi a dire ciò che penso delle cose che conosco per certo di cui so ogni minimo dettaglio della procedura di mobilità avviata del perché anche di me stessa io con tutto il rispetto per la società nella quale cerco di inserirmi e dove non riesco ad avere una vera collocazione professionale perché c'era già un ufficio del personale organizzato e qui mi fermo perché non voglio parlare di me voglio parlare e più importante parlare dei miei colleghi licenziati e di quell'indisponibilità non so questa parte non mi non mi pronuncio perché mi mancano degli elementi per poter dire esattamente quello che ci sarebbe da dire io nella iele non riesco ad esprimermi altri colleghi assunti prima di altri che oggi sono miei colleghi alla iele con i quali lavoro sono al lavoro colleghi del consorzio sono licenziati qualcosa non mi torna proprio perfettamente questo sinceramente nel rispetto di tutti io credo che l'avvocato del gaudio perché non ho motivo di pensare il contrario abbia fatto sempre quello che riteneva giusto che abbia fatto quello che poteva per perseguire l'obiettivo di salvare i livelli occupazionali tuttavia rimane come ho già detto questo mio dubbio su quello che è successo a monte a monte perché quando si avviano delle procedure non è mai un soggetto che può decidere l'iter e quindi non so cosa sia successo ho soltanto profondo dispiacere per i colleghi che sono stati licenziati allora la pagina del sede di anno cilento tragedia da scea bimbo muore in casa il piccolo aveva un anno vani i tentativi del padre di rianimarlo col massaggio cardiaco il pianto del fratellino gemello poi a polla esame ecodoppler la prima dato utile e a luglio 2015 a vallo della lucania angiografo e tac sempre fuori uso il l'onorevole simone valiante si rivolge al ministro lorenzin andiamo avanti agropoli scuole fantasma nel cilento sigilli ai beni dei vessicchio è sempre ad agropoli per quanto riguarda il discorso che stiamo affrontando con maria il sindaco al fieri si rivolge al presidente canfora i sindaci al prefetto dice non chiudete ora la iele sarebbe un grave danno soprattutto per questi 300 operai di cui parlavi anche tu tu fai parte di questi 300 operai dice il sindaco al fieri al momento non c'è nulla di organizzato quindi nel momento in cui si va a chiudere la iele che fine possono fare questi operai a questo proposito non posso che dire ovviamente io non mi permetto di dire cosa debbano fare semplicemente che applichino la legge come ho detto più volte non voglio essere noi osa ripeterlo ancora riguarda la questione specifica della iele io sono dipendente iele oggi e non posso che dire è chiaro chiudere la società nella quale lavoro non ho il diritto di dire cosa debbano fare ma sicuramente posso esprimere la mia opinione abbiamo una telecamera maria posso esprimere la mia opinione in merito in merito ti sei già rivolta ai sindaci in chiusura facciamolo ancora allora riorganizzarla renderla più efficiente è un lavoro che deve fare in parte la società attraverso le sue figure di vertice i suoi dirigenti funzionari tecnici esperti ma sicuramente servono anche delle risorse potete chiedere voi sindaci dato che è una realtà che vive in questo territorio i cittadini del vostro territorio tra cui io vivono lavorando in questa società e per voi per un servizio che è un servizio pubblico essenziale per l'ambiente per la salute perché ambiente salute rifiuti sono qualcosa di collegato imprescindibile non non vi chiedo di perché qualcuno me lo sento che mi ripete è un carrozzone avete detto questo molti di voi hanno detto questo ma si può rispetto al nulla rispetto a una frammentazione rispetto al rischio di inquinamento rispetto a tanti rischi che potrebbero derivare dal distruggere quello che abbiamo miglioriamo quello che abbiamo ecco maria mentre parli guardo le tue mani le mani di una donna di una lavoratrice quanto questo disordine questa confusione ha condizionato anche in maniera negativa la tua vita la mia come quella di molti colleghi che con da famiglie umili avevano pensato di vivere una vita diversa di poter esprimere come dicevo prima una professionalità e che con umiltà e con dignità tornano a fare i lavori più umili in campagna ad accudire genitori anziani che ci consentono di avere un tetto sulla testa e un piatto sul tavolo quando torniamo a casa io voglio in un abbraccio ideale abbracciare tutti i miei colleghi del consorzio i nuovi colleghi della Iele e cogliere l'occasione per dire che sia per noi una fine anno di serenità e non una fine danno di dolore atroce per la perdita del lavoro per la mancanza di stipendi perché finisce qualcosa in cui ormai io ci sto da circa 20 anni altri da meno diamo la possibilità a tutti perché c'è tanto da fare ci sono altre tipologie di rifiuti si possono realizzare altri servizi e organizzando le attività meglio e con il sostegno economico con una volontà che non è io non sto chiedendo aiuto per noi dipendenti sto chiedendo di fare ciò che è bene per tutti grazie grazie maria grazie a te grazie ci fermiamo qui su queste parole di maria maiuri ricordiamo ex operatrice del corisa 4 la rassegna stampa di oggi termina qui tra qualche istante però restate con noi c'è una nuova edizione del tg7 grazie arrivederci grazie grazie questo programma è stato offerto da infante calzature e pelletterie a valo della lucania in via angelo rubino e ad agropoli in via pio 10 70 infante calzature grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti